Ciao amici, voi lo conoscete il libro di Terra? È bellissimo! È stato il mio primo libro di letture ed è veramente bellissimo! Ci stanno 5 storie e 5 belle emozioni diverse Lami ce ne fai vedere quali sono queste emozioni? La rabbia, è gelosa, ha paura, è felice, è imbarazzata Wow! Quasi quasi lo porto con me nella mia scuola I piccolini saranno felici di vedere queste storie Allora che aspettate? Venite già mamma! Ciu 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 Terra è felice Se sei triste, ti manca l'allegria Maestra che canti? È una canzone bellissima! Puoi scacciare la malinconia! Vieni con me! Ti insegnerò la canzone della felicità! È proprio questo che volevo parlare, dell'emozione Vi ricordate quando a pagina 39 questo libro abbiamo trovato Thea? Sì maestra! Sì maestra! Ecco il libro di Thea! L'ho preso qui per voi! Che bello maestra ma ce lo leggi? Ok ma con voi! Per leggere la canzone della felicità ho bisogno dell'aiuto della pecorella oggi! Vieni qui! Sì maestra! Sì maestra! Allora, tu farei il discorso in diretto e io il discorso diretto! Sì maestra, hai sicuramente di più da leggere! Molto di più! Ah, così mi esercito maestra! Sì, hai cominciato! Oggi è lunedì e a scuola c'è il Raccontami con il maestro Carlo I bambini a turno raccontano alla classe una storia legata al tema che annuncia il maestro Il tema di oggi è cosa è la felicità? Non vedo l'ora di ascoltarvi Chi vuole iniziare? Liu alza la mano e timidamente inizia il suo racconto Io sono felice tutte le sere quando il nonno mi legge le storie prima di andare a letto Ma anche quando non le legge ma mi racconta di quando era bambino e viveva in Cina Io mi immagino tutto come se guardassi un film Sono tante le cose che mi fanno felice Afferma Cesco quando tocca a lui Per esempio risolvere il meno di 60 secondi I problemi di aritmetica 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 Poi fare la festa di compleanno due volte Con la famiglia e con gli amici E poi boh non so Tutta la classe ride Cesco è sempre un po' impacciato quando deve parlare di sé Miriam invece adora chiacchierare e dilungarsi sui particolari Sono troppissimi Le cose che mi rendono felice Troppissimissime Ripete la classe divertita Ma la cosa più bella è quando faccio il saggio Mi fanno Il saggio di danza E ho il tutù pieno di veli E' bello Quando mi fanno l'applauso Perché sono stata brava Continua E lui? E lui perché è felice? Maestra tocca sempre a te Prima abbiamo fatto un pezzo che toccava a me Invece l'hai fatto tu Ok Qua tocca a te Il discorso diretto Ok Io sono felice Quando la nonna Ci manda il pacco Dal Perù Pieno Il Perù Il Perù vicino da me Io sono il Perù Quello di Perù America Latina Si Sei Perù Ripieno di cose da mangiare E dentro ci trovo le caramelle al mais nero Inizia José Quando è il suo turno Ciao José La classe ascolta a bocca aperta I racconti di José Sono sempre bellissimi E i bambini Adorano le sue caramelle al mais E a te Malik Che cosa ti Rende felice? Io sono felice Quando faccio il Buffone E le Piezone Ridono Ridono Mi piace troppo Far ridere Mi piace così tanto Che ho deciso Che da grande Voglio fare Il comico E far Ridere Un Intero Un teatro? Intero Ma pure tu vuoi fare la comica Vero? No Mi sembrava a me Si che voglio Ti piace far ridere le persone? Non ce ne eravamo accorti È vero La classe ride sempre Molto Quando fai il buffone Aggiunge Divertito Il maestro Andiamo all'altra pagina Ora è il turno di Thea Dice il maestro Prego Thea Prego Thea Tocca a te È il turno tuo Ora è il turno di Thea Dice il maestro La cosa che mi fa più felice Succede una volta alla settimana Inizia Thea Scommetto che è la lezione di Giudo Interviene Miriam No E poi A Giudo Ci Vado Dove Volte Due Volte Alla settimana Precisa Thea Adesso vediamo un po' Se hai capito come si legge Adesso Lo fai tu Il discorso diretto Va bene maestra È la domenica al parco con il papà e Lori Racconta Thea Siccome durante la settimana Non c'è mai tempo per fare nulla Perché tutti hanno paura di fare tardi a scuola Al lavoro Al supermercato La domenica è bella Perché si può fare tutto con calma Io e il papà portiamo Lori a spasso nel parco vicino casa Mentre camminiamo incontriamo tanti signori con i cani Li conosciamo già quasi tutti Precisa Thea C'è una signora con un bulldog molto buffo Che respira così I bulldog sono sempre affaticati Dice Thea Mentre la classe ride Della sua imitazione Ogni volta che andiamo al parco Lori fa una nuova amicizia Però secondo me i cani sono un po' matti Per fare amicizia Si annusano sotto la cota E girano come trottole Racconta divertita E anche la classe scoppia a ridere Poi c'è quel signore Che ha un cane di nome Ercole Con le persone Ercole è buono Ma ha i cani il ringhia sempre E allora io lo chiamo Ercole il ringhione Lori vorrebbe giocare con lui Ma il papà non si fida di Ercole il ringhione Così tiene Lori stretta al guinzaglio Non si sa mai Nel nostro giro Incontriamo quasi sempre Le due migliori amiche di Lori Gaia Che è bianca Grande e tranquillissima E Maya Che invece è marroncina Piccola e peperina Come dice papà A Thea La parola peperina piace molto E la fa ridere un sacco Lori salta Corre e si mordicchia con Gaia e Maya Poi quando è stanca Si sdraia sull'erba A masticare un legnetto I legnetti le piacciono così tanto Che una volta anch'io Ho voluto assaggiarne uno All'inizio Mio papà si è arrabbiato un po' Però poi si è messo a ridere il legnetto non era buono per niente una volta finita la passeggiata io e Lori e il papà torniamo a casa per il pranzo della domenica che è meglio di quello della settimana perché c'è più tempo per cucinare e da mangiare ci sono cose più buone ecco cos'è la felicità per me alla fine dei racconti il maestro Carlo commenta i vostri racconti sono stati uno spasso come avete sentito la felicità si nasconde nelle piccole e grandi cose di ogni giorno conclude maestro a te cos'è che ti fa felice? gli domanda un trattotea è facile stare insieme a voi ogni giorno quando mi capita di ridere così tanto ma voi bambini e in quale motivo siete felici? io sono felice quando salto e io quando becco sono beccaccino io sono felice quando corro spensierato sull'arcobaleno io quando dormo veramente maestra io mi sento un po' triste allora fate tutti un fogliettino così lo ritagliate e poi ci scrivete tutte le vostre cose belle così magari lui si rialza un po' vedendo quelle idee si rialza di morale? sì ma perché sei così triste? maestra io ho lasciato tutti i miei amici in Brasile ho lasciato tutti lì sono arrivato qui voi mi avete accolto devo dire veramente a braccia aperte sono molto felice di questa vostra accoglienza però mi mancano i miei amici e la mia terra adesso dai piegate tutti i fogliettini e metteteli tutti dentro questo barattolo è finito? sì sì certo metto 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 grazie metti 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 bollettino bigliettino tu hai finito? sì 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 becco becco beccaccino ok allora avete fatto solo voi? io io pure ho fatto un bel pensiero sul sogno grazie maestra ok tu quel pensiero l'hai fatto? sì ok queste idee ti potranno essere utili grazie grazie maestra tieni grazie grazie amici nuovi amici sono molto felice di far parte di questa classe ok tu comunque ti prendi un bel dieci per la lettura non mi aspettavo che leggevi così bene tieni mi becco il coniglietto ciao coniglietto vieni a casa con me oggi? sì sarà contenta la mia mamma di vedere il coniglietto quando ci portiamo coniglietto a casa vuol dire che siamo stati davvero bravi sì è proprio così adesso come compito per casa dovete fare una gara con la vostra famiglia dovete fare chi sorridete più e poi contiamo i denti e vediamo chi ha più denti veramente che bel compito maestra mi piace tantissimo ci piace moltissimo grazie prego bene amici il video finisce qui ci vediamo domani con una nuovissima emozione chi non l'ha ancora fatto iscriviti al canale per non prendermi più nessuna nessuna ma proprio nessuna avventura di madalavinia e i suoi compagnetti i suoi alunnetti ciao ciao lavinia ciao che non libro ciao ciao